Fuori la recinzione, dentro i tornelli e poi ancora spogliatoi rinnovati, un'area hospitality per autorità e sponsor, locali per la stampa, un'area tecnica e ovviamente un nuovo settore di aperto al pubblico, quello dei distinti. Ecco il Sinigaglia in formato serie B. Terminati i lavori, ottenuto l'agibilità da tutti gli organismi competenti dopo settimane di odissea e tutto pronto allo stadio. Primo banco di prova domani alle 15 contro il Brescia dopo tre trasferte e forzate a Novara e un mese e mezzo di lavori per opere di adeguamento e ristrutturazione a carico del calcio Como che superano i 500 mila euro. Unito ai tornelli comunque ci sono poi tutto il sistema di gestione e controllo accessi che comunque ha avuto un'incidenza abbastanza rilevante, tutta la parte che riguarda invece la videosorveglianza per cui anche questa è stata implementata e di conseguenza anche tutti gli impianti per cui tutte le varie predisposizioni per consentire proprio la realizzazione di questo impianto nuovo che doveva essere collegato a una parte esistente. Lavori mai realizzati in 14 anni, precisa il presidente del calcio Como Pietro Apporro che risponde così alle critiche per ritardi nella conclusione del cantiere con slittamento dell'esordio casalingo rispetto alle promesse iniziali. Archiviate le polemiche oggi è stato il giorno dei ringraziamenti alle istituzioni anche se la vicenda ancora non è chiusa visto che la commissione provinciale di vigilanza ha dato un'agibilità temporanea. All'interno del complesso Sinigaglia più vasto ci sono alcune aree che non sono in nostra disponibilità, entro alcuni mesi bisognerà produrre dei progetti che contemplino però che siano coordinati anche con queste altre superfici con destinazioni diverse per cui Piscina Sinigaglia piuttosto che altri locali non in uso a calcio Como e dovrà essere presentato un progetto unico. Resta il fatto che da domani si gioca al Sinigaglia, un appuntamento atteso dai tifosi con 700 biglietti venduti nelle prime 24 ore che domani testeranno di persona le novità in primis i tornelli e le modalità di accesso alla zona stadio dove tra l'altro esordirà la recensione per isolare i tifosi ospiti all'altezza del monumento ai caduti. Suo fronte viabilistico divieto di sosta nell'aria intorno allo stadio in vigore dalle 9 alle 20. Una volta terminato il montaggio della recensione non sarà più consentito il passaggio nell'area monumento e dalle 12 e 30 sarà vietata anche la circolazione in zona stadio ad eccezione dei residenti e tifosi in possesso del biglietto. Cancelli aperti dalle 13 la società e le forze dell'ordine imitano i supporters a recarsi allo stadio in anticipo.